Buongiorno dal Tg della Mobilità. A Corso Trieste stop al traffico tra Piazza Istria e Via Topino per le potature. In corso da alcuni giorni la chiusura è iniziata questa mattina e per oggi si concluderà intorno alle 16.30. Nelle stesse ore deviate le linee bus 38, 80, 88, 89 e 235. I lavori proseguiranno poi nel corso di questa settimana. Le altre notizie a Via Molise da questa mattina sit-in davanti al Ministero dello Sviluppo Economico al momento non sono segnalate ripercussioni sulla viabilità della zona in settimana. Giovedì è prevista una seconda manifestazione sempre a Via Molise e nello stesso giorno sit-in anche a Piazza Santi Apostoli dove poi sabato si terrà una manifestazione nel pomeriggio. Giovedì. Giovedì. Giovedì.